come cancellare la cronologia di youtube da desktop e mobile perché c'è una grandissima novità e quindi ve la mostro che è la cancellazione automatica della cronologia vado facilmente velocemente nei due punti e poi vi faccio l'approfondimento così chi è arrivato qui per guardarsi come si fa se lo guarda poi se vuole andare via va via allora da mobile è facile praticamente ecco qua c'è il pulsantino c'è il tu l'opzione che si chiama tu con la vostra faccia in basso a destra praticamente entriamo nel nostro account cronologia ne vediamo solo uno perché l'ho cancellata prima vado su visualizza tutti e poi sui tre pallini in alto a destra e abbiamo sospendi cronologia cancella e gestisci in cancella tutta la cronologia quando poi andiamo a cliccare da cancella la cronologia delle visualizzazioni questa frase in basso a sinistra andiamo a cancellarla sostanzialmente in sospendi abbiamo la possibilità proprio di sospenderla quindi youtube non ci salva più niente però c'è l'altra opzione quando andiamo in gestisci tutta la cronologia lo vediamo qua le opzioni sono le stesse anche da desktop quindi a breve switcho nel desktop perché poi è più facile abbiamo eliminazione automatica off se io ci entro ho la possibilità di dire a youtube di eliminare la cronologia dopo tre mesi dopo 18 o dopo 36 è un'opzione automatica non è per niente male questa opzione andiamo a vederla da desktop così ci facciamo anche tutto l'approfondimento che voglio farvi allora da desktop per eliminare la cronologia dobbiamo cliccare sui tre pallini vicino all'icona di youtube io premio perché sono abbonato fai cronologia ne vediamo uno appunto perché l'ho cancellata e poi vediamo sono le stesse opzioni quindi cancella tutta la cronologia delle visualizzazioni ora clicco così ve la faccio vedere sparisce sparisce qualsiasi altra cosa sospendi quindi non me la traccia più ma la cosa interessante è gestisci tutta la cronologia dall'app non si nota che si sposta ovviamente in un'altra parte ma qui siamo proprio su google perché ovviamente youtube è di google cos'è che abbiamo innanzitutto abbiamo varie opzioni tra poco centriamo qui abbiamo tutto quello che noi abbiamo cercato ok quindi abbiamo tutto quello che abbiamo cercato oggi o negli altri giorni possiamo andare nel dettaglio di quello che abbiamo cercato possiamo eliminare tutto quindi eliminare oggi o tutta l'attività di ricerca ad esempio io non lo faccio perché a me interessa e poi abbiamo due opzioni più i controlli qua le due opzioni abbiamo l'eliminazione automatica vedete è uguale praticamente a quello che c'è da da mobile poi oltre all'eliminazione automatica abbiamo la cronologia di youtube viene salvata quindi io ci clicco e finisco in controlli e ho il controllo preciso di quella che è la cronologia ora che controllo preciso ho ho la possibilità di includere i video che guardo ma posso anche escluderli e includere per esempio solo le ricerche quindi io qui ho la possibilità di andare effettivamente a personalizzare la mia cronologia andando a scegliere anche se voglio includere le attività vocali e audio che uso su youtube andiamo poi a gestirla e rientreremo nella gestione quindi nella possibilità di scegliere l'automatismo di eliminazione automatica abbiamo il centro per gli annunci se attivano per renderli più pertinenti o meno io ce l'ho su on perché io voglio gli annunci pertinenti poi altre attività il feedback non mi interessa di youtube vediamo ci dice se vogliamo eliminarlo le risposte dei sondaggi se vogliamo eliminare le risposte che abbiamo dato ai sondaggi che abbiamo partecipato dentro youtube e poi il feed in base al feedback cioè possiamo pulire il feed anche da qui andando a eliminare tutte quelle cose che abbiamo già fatto il non mi interessa la risposta ai sondaggi eccetera eccetera quindi abbiamo controlli per controllare tutto cronologia per controllare la cronologia e infine abbiamo interazioni ora su interazione abbiamo tutta la cronologia e questo vi può interessare perché magari non lo sapete anche delle messaggi che avete mandato nella chat dal vivo se io ora ci clicco vedo tutti i messaggi che ho mandato bene dai ci sto una live Rick Dufer stavo scrivendo in chat ad esempio oppure commenti e risposte dove ho commentato e dove ho risposto lo vediamo qua e poi abbiamo mi piace non mi piace non mi piace nei commenti quindi dove ho messo mi piace dove non ho messo mi piace in sostanza e infine ho non mi piace mi piace non mi piace sui video per vedere tutti i video dove ho messo mi piace non mi piace ok quindi ho sostanzialmente la possibilità vediamo qua di andare a gestire la cronologia i controlli e tutte le interazioni che io ho avuto è sempre importante insomma per un internet migliore conoscere le piattaforme che utilizziamo sapere che youtube da un bel po' ha anche la possibilità non solo di non tracciare la cronologia ma decidere di eliminarla dopo tot tempo e questa è un'opzione molto importante e che avete sempre la possibilità con un click molto facile di cancellare tutto poi potete scegliere di lasciare tutto aperto io lo faccio perché molte volte la cronologia mi serve per capire dove ho messo mi piace non me lo ricordo dove ho commentato dove ho interagito con nelle chat dal vivo cose di questo tipo per me sono molto molto interessanti e mi personalizza poi anche il feed tra le altre cose nelle interazioni ve lo rimostro non c'è solo tutte le attività che noi facciamo normalmente ma ci sono ad esempio andando più in basso anche i progressi nella sala giochi se avete giocato ma abbiamo tutte le altre interazioni come l'attività di acquisto l'impostazione dei regali l'iscrizione ai canali post della scheda community quindi dove ci siamo iscritti per esempio lo andiamo a vedere con tutte le varie attività che è ben fatto sulle iscrizioni e poi abbiamo la possibilità post della scheda community di capire dove abbiamo messo mi piace dove abbiamo interagito eccetera eccetera una cosa invece molto importante la pagina di iscrizione al canale ve la mostro è youtube iscrizioni dove avete tutte le iscrizioni con l'ordine dei video shorts e video lunghe che sono state create su gestisci eccolo qua avete la possibilità di avere tutta la lista e di scegliere se per un canale volete tutte le notifiche oppure annullare l'iscrizione da quella pagina la gestite mi hanno fatto conoscere un'estensione molto bella ci farò un video nelle prossime settimane su questa estensione per migliorare l'esperienza di youtube avere delle iscrizioni più diciamo categorizzate correttamente è molto bella e molto carina ve la farò vedere tra qualche giorno con questo è tutto noi ci vediamo al prossimo video contenuto come sempre e torneremo a parlare anche di seo e roba varia mi raccomando iscrivetevi a telegram perché a breve partono le live dove potete chiedermi qualsiasi cosa approfondire qualsiasi argomento grazie a tutti